Hola! Eccomi! C'è qualcuno in giro? Ciao, ciao, ciao! Ciao! Vediamo se c'è qualcuno. Sì, uno vedo lì. Chi sarà? Chi sarà? Un mistero? Chi c'è? Aspettiamo un pochitino. Ciao ragazzi, ragazze, o spero anche ci sia anche qualche papà. Come va ragazze? Saludatemi perché sennò non vedo se ci siete o siete andati via. Ciao, vedo un cuoricino! Serena! La mia fedele Serena! Come sta andando ragazze? Allora, benvenuto a primavera. Una primavera un po' triste. Ciao, linda! Buon pomeriggio anche a te. Una primavera un po'... Buenos dias, buenos dias, Serena! Dicevo, una primavera un po' triste. una primavera veramente strana e unica. Speriamo non si ripita mai più, mai più questa primavera. Niente, e io ho scelto un argomento un po' scottante, no? Perché urliamo quando pretendiamo educare? Vediamo! Ciao, carissima! Ciao, Mary! Come va? Allora, intanto, si sta collegando. Io volevo parlare di questo argomento, no? Perché è un argomento che tocca sempre a tutti, anche a me. Sicuramente nessuno che decide di avere un figlio dice, ah, io vorrei tanto poter urlare ai miei figli per educarli. Vorrei tanto sgridare, esplodere ogni volta che devo correggerlo. Questa cosa non esiste nel nostro pensiero, no? Non esiste nel nostro progetto come genitore. Quindi, a volte diciamo, ma perché lo faccio se io non voglio farlo? Perché devo urlare, no? Perché devo sempre usare questo tono così aggressivo, reattivo? E allora, Virko, un papà, ciao, il profilo del mio compagno. Ah, no, allora, tu avevi scritto quando il piccolino dormiva. Sono Nicole, piacere di conoscerti, ti stiamo seguendo, sta andando bene. Grazie, grazie, grazie. Dopo, allora, facciamo un, diciamo, un pezzettino del mio reconto, poi dopo facciamo, apriamo per le domande, ok? Quindi stavo dicendo che nessuno, quando è incinta o quando desidera avere un figlio, sogna con urlare il proprio figlio, vero? E nessuno si predispone a trattare male a suo proprio figlio, no? Però, prima di andare avanti, volevo dire una cosa. Io ho postato, no, questa foto dove ho chiesto di completare la frase, io urlo quando, no? E che succede? Che le risposte sono state molto evidenti, no? Io urlo quando lui si striscia per terra e aumenta il mio lavoro, io urlo, ce l'ho qua, tutti i commenti che dopo magari andiamo a parlare. Io urlo quando lui fa diecimile volte quello che l'ho detto di non fare. Io urlo quando lui fa, quando lei fa, quando lui, tu, quindi il dittino vanno sempre a puntare fuori, fuori di noi. Ciao Elias! Ciao amore! Che bello che mi sta guardando anche Elias! Sono qua, eh, fra un po' arrivo. Quindi io ho visto che nella risposte è stata sempre l'attenzione impostata all'esterno di noi. Quindi io urlo perché lui mi fa urlare, io urlo perché lui non fa quello che dico io, io urlo perché lui si striscia per terra e mi fa aumentare il lavoro perché si sporca i pantaloni. Io urlo perché questo dittino sempre, così, fuori di noi. Quindi questa cosa è la conseguenza di quello che sono le convinzioni sociali, ok, che ha creduto che il bambino è il colpevole del nostro maltrato. Quindi io devo andare a correggere per forza quel comportamento nel bambino perché per colpa sua io scoppio, ok, e urlo. Quindi le mie urle non è un problema mio, le mie urle sono conseguenze dello che fa il bambino. È vero? Ci siamo? Ma questo, non sto puntando il dito contro nessuno, ma questo è una eredità sociale, un credo sociale, che ci siamo portati da anni, da anni, generazioni, 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 non so ne quante. Quando io mi focalizzo in che devo cambiare a mio figlio per io non perdere la pazienza, ok, basicamente entriamo in un'educazione autoritaria, ok, e non un'educazione rispettosa o consapevole nel confronto del bambino neanche nella nostra. Quindi partiamo da questo presupposto, ok, che noi tutte, anche io, mi ci metto anche io per prima, che tutte abbiamo un modello reattivo o un modus reattivo. E questo è stato un'eredità sociale che ci ha lasciato il nostro genitore, ok, che alla sua volta hanno copiato lo stesso modello reattivo del proprio genitore. Quindi quando io ho letto tutte le risposte dei commenti mi sono resso conto che è così, che basicamente noi andiamo sempre a dare la colpa al nostro bambino, perché se lui salta diecimila volte quando io gli ho detto di non farlo, allora se io urlo io la colpa è sua e non mia. Invece, ragazzi, la notizia qual è? La notizia è che l'educazione rispettosa si concentra sempre su l'adulto. Vi ricordate che nella prima diretta ne abbiamo parlato un po', magari i miei post parlano sempre su questo. Non possiamo concentrarci sul comportamento del bambino. Occhio, questo non vuol dire che dobbiamo aiutare o guidare il bambino verso il comportamento corretto, ma anche questo dipende da noi, completamente da noi. Quindi il punto qual è? Che io devo concentrarmi su quello che io sto provando quando il bambino fa quella determinata cosa. Vi racconto una storia, una storia per me bellissima. Io ero in Venezuela con la mia nipotina, con una delle mie sorelle, e mia mamma è stata sempre una mamma molto urlona, no? Se può dire urlona, sì, vabbè. E allora eravamo seduta sul marciapiedi che stavamo giocando e mia sorella inizia Oriana! Oh, buon pomeriggio! Oriana! Oriana! Allora mi guarda, mi dice, zia, ma ma perché la mamma è così, no? Io gli dico, ma secondo te, Ori, perché la mamma urla? E mi dice, la mamma urla perché è pigra, perché lei invece deve venire qua a dirmi che cosa devo fare, lei pretende che io mi alzo, ci stava, aveva dieci anni, lei pretende che io mi alzo, devo andare da là, ma se è lei che ha bisogno di me, io sto qua e lei deve venire qua. Se lei si alzasse, venisse un attimo qua, sicuramente non urlarebbe, urlarebbe. Sono un po' emozionata, ok? Quindi il punto qual è, ragazzi? Che le urle è un modello che ce l'abbiamo dentro, è entrato nel nostro DNA, è proprio dentro della nostra pelle, è proprio lì, è rimasta lì, ok? Della nostra famiglia, dei nostri noni, tutta una cadena di generazione. Quindi partiamo da questo presupposto, che nessuno, ok, è perfetto, io sempre dico che noi dobbiamo cercare di vivere meglio la genitorialità, ma imperfettamente umani, non si pretende essere perfetti, ma è giusto riconoscere che cosa succede dentro di noi, ok? Quindi, se partiamo dal presupposto, io mi sono insegnato un po' di cosa, ok, su quello che potrebbe essere il ciclo, no? Io lo chiamo la genitorialità a un ciclo, a un ciclo reattivo, quando io, ok, doi un comando e le dico Elias, spegni il televisore! Che succede? Io aspetto di conseguenza che Elias dica sì, mamma, spengo il televisore. E che succede con questo ciclo? Inizia, inizia il comando, tu dai, fra virgolette, l'ordine a tuo figlio, ok? Tu aspetti che lui risponda positivamente senza brontolare, senza opporsi, senza niente, quindi noi vogliamo che il bambino sia un robotino, che questo sarebbe, no, ideale per tante persone, ma non è così, quindi tu inizi a insistere. La insistenza nella tua testa, ok, ti va salendo questa cosa sopra, e poi arrivano le, come si dice, le, sì, le ammenacce. Allora, ti ho detto che sono a spegnere la televisione, adesso ti tolgo una settimana il televisore, quindi entra un circolo vizioso, poi dopo, che succede? Le ammenacce, dopo, boom, scoppia, scoppia l'inferno. E qua vengono le urla, e poi dopo andiamo su verso le colpe, perché lo so che tutti ci sentiamo malissimo, bruttissimo, ci sentiamo proprio da cacca, quando dopo urliamo ai nostri figli, e dopo dice, ma perché devo urlare, no? Quindi io sono qua per raccontarti che le urla sono un meccanismo che sicuramente ci aiuda a, a sicuramente liberare quello che stiamo sentendo. Ma quando vogliamo educare i nostri figli in maniera rispettosa, dobbiamo partire, ok, ripeto, sempre da noi. Ma per poter capire questa cosa, io vi suggerisco una cosa importantissima. Andate a osservare che io ho fatto questo esercizio, io ho preso la famiglia, io ho preso mio papà, ok, ho preso mia mamma, ok, poi sono andata a fare le caratteristiche di ognuno, papà, 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 mamà, 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 ho tirato fuori, poi sono andata a vedere un attimino sopra cosa c'era sopra di loro. Mie zii, le mie zie, e così sono andata a fare un screening di quello che è la mia famiglia, perché di questo noi tiriamo fuori il modello o il modus reattivo che abbiamo acquisito, che abbiamo segnato dentro la nostra testina, perché noi andiamo a fare esattamente quello che hanno fatto con noi. e quindi se avete le domande scrivete lì che dopo vado indietro a guardare. Quindi partite di questo presupposto, ok? Io sicuramente urlo perché il bambino non mi ascolta, ma in realtà urliamo perché noi non ci ascoltiamo, perché noi non riusciamo a connetterci con noi stessi e con le emozioni che stiamo provando davanti a quella ordine che stiamo dando al nostro bambino, quindi sicuramente dobbiamo un attimo connetterci, quindi conoscere la nostra emozione, sapere che cosa sto provando, sapere cosa provo quando il bambino mi dice no, ok? Sapere perché io sto provando questa cosa quando le devo ripetere, che cosa mi sale perché vedo che uno dei problemi più grande è la ripetizione, no? La ripetizione nella generalità è la cosa più stancante che c'è e questa ripetizione ci porta sempre a un circolo vizioso che è quello di sicuramente il comando di che smette di aprire il bidet, ok? E il bambino non lo fa, quindi lo amminaccia poi dopo esplotti, poi dopo la colpa, poi dopo ritorna e poi un'altra volta e poi un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta che tu rimane sempre male perché tu dopo, io so che stai male, perché è quello che non abbiamo immaginato per educare i nostri figli e abbiamo detto no, lo facciamo come la mamma, non lo farò come mio papà, quindi entriamo in un circolo vizioso che si porta proprio a confondere tantissimo, quindi che succede ragazzi? Partiamo dal presupposto che dobbiamo avere chiaro prima cosa che abbiamo un modello reattivo e che abbiamo un modus reattivo, ok? Allora dopo che noi ci mettiamo lì un attimo a capire chi è mio papà, chi è mia mamma, cosa mi ha lasciato mia mamma, cosa mi ha lasciato mio papà, cosa io faccio uguale a lui, cosa faccio uguale a lei, ok? E andiamo a vedere, a riconoscerci, siamo ad andare a giudicare, ok? Perché sicuramente no, vogliamo giudicare quello che è stata la vecchia educazione, io cerco di farlo così anche se ogni tanto mi viene, qua, non mi va giù. Però l'importante è che dobbiamo prendere, ok? Rendire il nostro comportamento della nostra genitorialità che parte di quello che noi abbiamo vissuto dei bambini, perché a volte mi trovo con delle insegnanti, ok? Che mi dicono, Rossi, ma io perché passo tutto il giorno a gestire a 20 bambini, ok? Ho 5-6 anni e mi sento bene, poi torno a casa e vedo il mio che ha 6 anni, io non ce la faccio più e scoppio per qualsiasi cosa che mi dice. È perché i nostri figli ci vanno a portare, ok? Dentro, ci vanno a toccare dentro tutti quei filini proprio sottili della nostra infanzia. E le nostre emozioni, ok, vengono così, a fleur de pelle, non so come si dice in italiano, si vengono così alla superficie quando ce l'abbiamo di fronte. Quindi dobbiamo prendere in considerazione che loro hanno questa funzione nella nostra vita. Sono arrivati, sicuramente, a darci un dono meraviglioso, perché sono loro a darci il dono a noi, ok? Noi l'abbiamo dato la vita, ma sono loro a darci l'opportunità di guardarci dentro, ok? Di migliorare ogni volta come essere umano, proprio dare il meglio a loro. Ma il punto qual è? Che anche se non vogliamo, noi continuiamo a ripetere ogni volta lo stesso sbaglio, ok? E questo ci portarà sempre a sentirsi, come ho detto prima, in colpa. Quindi cosa possiamo fare, ok? Dopo parliamo della ripetizione. Cosa possiamo fare? Io devo sicuramente cercare... Io credo che uno del problema delle persone quando urliamo è che non abbiamo strumenti, no? Abbiamo, prima cosa, un modo, diciamo, reattivo o un modello reattivo familiare che questo non ce lo toglie nessuno. E ce l'abbiamo lì, dentro, nella pelle, dentro di noi, nel cuore, nel DNA. Dopo che abbiamo questo modello reattivo familiare, un'erenzia che dobbiamo un po' dirizzare, abbiamo un altro problemino. Ci mancano strumenti. Perché sappiamo che nessuno ci insegna a essere genitore. Quindi, non ho strumenti e vado a ripetere la stessa cosa che hanno fatto il genitore. Ok? L'altra cosa che io vedo e perché urliamo è perché non conosciamo le nostre emozioni. Quindi, modello reattivo, non ho strumenti, non mi conosco, non so che cosa sto provando, non so che cosa è la rabbia, non so che cosa è la tristessa, non so che funzioni hanno dentro di me. Ok? E poi dopo abbiamo, ripeto, prima cosa, modello reattivo familiare, seconda cosa, non ho strumenti perché nessuno ci insegna ad essere genitore. E la terza cosa, non ci conosciamo. Ok? Non so che cosa sto provando, non so chi è Rossi Claire, non so se sono triste, non so se sono allegra, non so niente di me. E queste sono le tre, diciamo, componenti del cui io penso, della quale, ok? Mettiamole i culpevoli del perché perdiamo così, esplodiamo costantemente davanti alle cose più preziosi che abbiamo. Ok? Non so se mi seguite, non so se mi rendo l'idea, vediamo sì, ciao, noi siamo all'inizio, ma una bimba ha 5 mesi e finora si fa male sentirla piangere, fatichiamo tanto tenendola in braccio pur di non lasciarla piangere. Ma è così, lei piange perché vuole stare fra le tue braccia. Ricorda che 5 mesi è piccina, no? Sono 9 mesi dentro la pancia della mamma, qua, i 9 mesi fuori la pancia della mamma. quindi tu per 9 mesi, tu questo, questo che vedi qua, ok? Le braccia, non so se mi vedete, le braccia, perché non solitamente diamo la tetta sinistra? Perché questo, ok? È il secondo utero, è l'utero esterno, quindi io devo, ok? Tenere sempre vicina la mia piccina, qua il cuore, le sto dando la tetta, che non è soltanto la nutrizione, non è, l'allattamento non è solo nutrizione, quindi ci sono esperte che sicuramente sanno di più di me. Quindi io però devo creare un utero esterno per tenerle fra le braccia, lei deve sentirsi accolta, lei deve sentire che ancora è dentro il calduccio della mamma. Quindi, deve, devi ascoltare il tuo istinto, ok? Cecilia, devi ascoltare il tuo istinto e se tu ascolti il tuo istinto, ti dice prendere un braccio e non farla piantere, perché il pianto del bambino c'ha un effetto nel nostro cervello, soprattutto nella mamma, di accudire, cioè io devo interrompere questo, ma a volte, vogliamo interrompere come? Bloccando il pianto, ok? E a volte, cioè ci sono persone che si lasciano un po' trascinare per quello che è la generazione, le generazioni hanno detto che dobbiamo fare, di lasciarlo lì, che si avvito, perché si vizia, perché tutto quello che sappiamo che è tutto, cioè un disastro, no? Perché se fai il pulmone, tutta questa roba empirica, bruttissima, che lascia il bambino lì, lascialo lì piangere, ok? A volte la gente combatte contro questo istinto perché sono convinti che questa è la cosa giusta, ma se tu ascolta il tuo istinto, Cecilia, sicuramente il tuo istinto ti dice prende l'embraccio e non farla piangere, ok? Quindi, ascolta il tuo istinto, prende l'embraccio, coccola, coccola, tante coccole perché crescono così in fretta, che veramente, io al mio già a sei anni, e io dico, mamma mia, quando è cresciuto? Quindi, è un problema nostro, su quello che noi stiamo provando, quindi, è sempre l'emozione, non ci conosciamo, quindi io mi despero perché non voglio, ho la paura, ho magari la rabbia, o magari non posso dormire, una, credo che Nicole mi aveva scritto con il profilo del suo marito, aveva detto che urlava quando non si svegliava tante volte, quindi il bambino era piccino anche lì, quindi io devo, ok, sapere che quello che sto provando io, non dipende di quello che sta facendo il bambino, sino di come io gestisco le mie emozioni, e questa è la cosa molto difficile, questa è una cosa molto difficile, ma non è impossibile, la bella notizia è che non è impossibile, che ognuno di voi potete, ognuno di voi potete conoscervi veramente, e conoscere le emozioni che sono quelle che ci guidano, ok? Ma andiamo avanti, quindi no, ho, ripito, ho un patrono, diciamo un modello reattivo, non ho strumenti, non conosco le mie emozioni, ok? Cosa possiamo fare? Queste per me sono le tre cause del perché urliamo. Cosa possiamo fare? Sicuramente partiamo da metterci in discussione, ok? Io non voglio urlare, o perlomeno non voglio fare che la mia genitalità sia un caos, perché tutto, ripeto, diventa un circolo vizioso, i torni, poi sorride, poi lo abbraccia, poi lo bacia, poi dopo dieci minuti, poi il bambino piante, poi c'è in colpa, e tutta questa roba qua, no? E allora ti crea una confusione, ma perché se questa è la cosa che io adoro di più nella vita, perché io mi sento in questa confusione? E' perché non ci avevamo gli strumenti. Quindi i coccioli sono piccolini, come sempre dico, fino a 18 anni tutto va benissimo, ma quando iniziano a tirare fuori il sviluppo, iniziano a conoscersi, a dire di no, noi iniziamo, ok, a perdere la pazienza, perché diciamo che la parte romantica è finita e entriamo in una guerra del potere. Quindi io perdo il controllo quando non mi sento ascoltata. Quindi questo va relacionato sempre con il nostro modello reattivo, familiare. Quindi magari quando eri piccolina non ti sentiva ascoltata del tuo genitore, e quindi quando il tuo figlio, tu le ripeti 10.000 volte quello che non deve fare, il bambino non ti ascolta e tu automaticamente ti senti ferita, e automaticamente questo ti porta a urlare. quindi tutto questo dobbiamo riconoscerlo. E va benissimo così, e va bene. Tu dici va bene Rosiclera, allora io sono una urlona, ok, e quindi io devo morsicarmi la lingua e dire che cosa sto provando, che cosa sto sentendo, perché devo urlare, ma... queste cose qua. Poi parlo della ripetizione. Perdiamo il controllo per la ripetizione. Ragazzi, io sempre do l'esempio della patente. Se un bambino non prende la patente sicuramente a 10 anni, a 8 anni, è perché non ha certe capacità cerebrale. Diciamo che il loro cervellino non riesce a guidare una macchina a 10 anni, perché è periglossissimo. Quindi, la ripetizione, ok, lo so che è sumamente stancante nella vita genitoriale, ma dobbiamo accettare che il bambino porterà dentro di sé un determinato comportamento con la ripetizione, con l'allenamento. Non possiamo pretendere che una creatura di due anni e mezzo, ok, tu le dici, ho tre anni, tu le dici, oggi ti devi lavare le mani, ok, che questo succede molto spesso, o magari non ti devi mettere il dito nella bocca, non ti devi mettere il dito nel nastro, non ti devi mettere il dito nell'occhio, perché siamo un po' in emergenza, e mi ritrovo in situazione, adesso no, perché ormai non vedo nessuno, però mi ritrovo in situazione all'inizio, ti ho detto no, pum, non ti mette il dito in bocca, pum, e il bambino non riesce a capire, non ci arriva, non c'ha ancora una parte del cervello razionale che dica, ah ok, devo ricordare quello che mi ha detto mia madre. Quindi è stancante, perché dobbiamo ripetere le cose una settimana, un mese, due mesi, per anni. Se tu vuoi che il bambino, non so, datemi, scrivetemi qua che cosa è che vi fa ferdere la testa per ripetere le cose, perché solitamente lavate i denti, lavate le mani, mettete le scarpe nel suo posto, non so, fatemi l'esempio, no? Ho visto una mamma che aveva scritto, se non ho sbaglio, dopo vado a vedere Giuseppina, non so se era Giuseppina, che mi ha scritto quando si traspiscia per terra e si è sporca, aumentando il mio lavoro. Ma il bambino deve stare per terra. Giuseppina, o chi le succede questa cosa? Mette una bilancia quanto può essere importante i pantaloni sporchi, ok? Con il rapporto con tuo figlio, la serenità che tu trasmitti al tuo figlio, ok? Quindi i pantaloni sporchi si mettono in lavatrice. Ok, non sto dicendo che dobbiamo lasciare, non so, stare per terra nell'ospedale, o in farmacia, o nel supermercato, non lo so. Io praticamente lì lo lasciavo fare. Però, chi le dà fastidio, possiamo anche dire, amore, con il sorriso, possiamo dire, mamma mia, ci sono un po' di batteri lì, dai, è meglio che ci mettiamo un po' in piedi, ok? E portiamo il bambino a capire perché non deve strisciarsi per terra. Ma tutto dipende quanti anni ha, non mi ricordo quanti anni hanno, perché se sono piccolini, tocca soltanto alzarli, e magari distrarlo a fare altre cose, se non vogliamo che si strascia per terra. Però se io avete una lavatrice, magari dico, vabbè, lo metto in lavatrice, che se ne frega, no? Tanto i bambini si devono muovere, devono saltarsi, devono sporcarsi, devono sudare, devono sporcarsi le mani. Questo è questo che devono fare i bambini. Quindi, capisco che noi perdiamo il controllo su queste cose qua, perché dice, aumenta il mio lavoro, ma il lavoro qual sarebbe? Qual sarebbe? Preferisco fare una lavatrice meno, ma urlare sempre a mio figlio. Per dire, sto prendendo l'esempio della mamma che mi ha scritto. Io preferisco fare una lavatrice in più, ok? E' questo che dobbiamo andare a vedere. Preferisco fare una lavatrice in più che stare a rompere il vincolo o il legame con mio figlio e con tutte queste urla, perché questo va a rompere un legame che si sta costruendo. Il legame deve essere sotto la fiducia, sotto l'accettazione, sotto la comprensione. Quindi, è importantissimo avere presente che io dovrò ripete mille volte le cose. Non aprire il bidet, come ho detto nel primo incontro, nella prima diretta, e smettere di aprire il bidet quando imparerà come funziona il bidet. Lavate le mani e dobbiamo continuare a dirlo tutti i giorni. Doviamo lavarci le mani. Anzi, se parlate in plurale, Alvaro Bilbao dice che è ancora molto più effettivo, ok? Quindi, dobbiamo ripetere, 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 costantemente, costantemente. Quindi, siamo noi che dobbiamo accettare che questa situazione è così. Se andate a vedere i commenti, vedete che tutti hanno detto la stessa cosa, è il ripetere. Quindi, non è un problema del tuo figlio, né del tuo, né del tuo, né del tuo, né del tuo. È un problema del processo evolutivo del bambino, del qualsiasi bambino nel mondo. Quindi, non è il tuo figlio che è sbagliato, non è il tuo figlio che vuole sfidarti, non è il tuo figlio che è storto, no. O te sfida, no. Perché tutti i bambini hanno bisogno di tempo per imparare le regole. Noi non abbiamo imparato a guidare da un giorno all'altro, ok? No, perché la pretesa della mente adulta è che il bambino mi obbedisca assolutamente che gli do il comando. Ma perché? Sì, è piccolino. Sta appena imparando a capire come funziona il mondo. Sta appena imparando che è appena uscito dalla pancia della mamma. No? Quando sono piccolino, piccolino, parlo sempre meno di tre anni. Quindi, il mio invito sarà sempre a pensare, no. Rosiclera, ma che fastidio mi dà mettere una lavatrice in più? O qual è il problema se il bambino è per terra? Che cosa mi dà fastidio? È il giudizio che la gente dica, ma guarda questa qua, come lascia trascinare il bambino per terra? Che è maleducato questo bambino? Perché entra anche il giudizio. Soprattutto quando sei nel centro commerciale, nel supermercato, quando sei in compagnia con amici che magari o non hanno bimbi o magari hanno bimbi. E allora sentiamo tutti gli occhi puntati su di noi. Quindi tutto questo forma parte di conoscere le nostre emozioni, di conoscere chi siamo, cosa stiamo provando. Non so se... Mi spiego? Datemi un segno. Eh? Cecilia? Grazie, no. Niente. A voi. Come sempre è un piacere sentire. Sono emozionata. Sai, il mio itagnolo sempre mi confonde la lingua. Io ho un bimbo appena di tre anni che ora urla lui. Nonostante io ho cercato sempre di non urlare. Aspetta eh, perché sono un dinosaurio con questa roba qua. De non urlare tranne alcune occasioni in cui ero molto stanca. Ecco, non mi sono trattenuta. Ora, ogni volta che le dico un no, lui piangi dicendo Mamma, te mi hai urlato. Ma in realtà la mia voce era normale. Ma era più un tono del rimprovero. Lui ha associato il mio rimprovero all'urlo anche quando non urlo. E non so come fare per farlo capire. Ma... Tre... Quanti anni è? Aspetta. Dei tre anni. Tu dice che urli poco. Cioè che urli pochissime volte. Ok? E che quando te sono scappate. Perché hai riconosciuto che eri stanca. Perché anche io quando sono stanca le dico Io sono stanca. E io devo un attimo respirare. O magari le dico al papà. Papà, fare la doccia tu. Perché io devo isolarmi. Ok? Quindi tu dice che una volta, due volte, quelle volte che hai urlato. Adesso ogni volta lui ti dice Mamma mi ha urlato. E tu magari le puoi dire davvero. Perché noi pensiamo di parlare con un tono. Ma chi percepisce il nostro tono è l'altra persona. Magari per lui hai urlato. Magari il suo tono... È il tuo tono che per ti del rimprovero. Ma solitamente quando vogliamo rimprovare non è che urliamo. Però abbiamo questo tono un po' Ti ho detto di no. Non so. Si rendo l'idea. Quindi... Deve far capire. Deve cercare di dirle Davvero? Davvero? Hai sentito che urlato? Mi dispiace amore. Non volevo farlo. Però... Magari io mi sono sentita un po' arrabbiata con quello che è successo. E mi ha aumentato il tono della voce. Perché... Noi dobbiamo farle capire al bambino cosa, no? In questo caso. Che tu non hai urlato. Ma se lui lo ha percepito come urla... Non siamo lì a giudicare quello che lui sta percependo. Per me... Non è giusto, no? Lui ha diritto di dire quello che sta sentendo. Se per lui è stato così... Per lui è stato così. Non dobbiamo pretendere di farle cambiare. Dobbiamo solo cambiare il nostro comportamento. Se non vogliamo trasmettere questo. Ma... Sai cosa, Marina? Anche io urlo. E anche Lias mi dice... Mamma mia, hai urlato! E io dico... Te chiedo scusa. È vero? Sì? Mi dispiace che l'hai percepito così. Per me non era così, amore. Evidentemente tu l'hai percepito così. Te chiedo scusa e mi dispiace moltissimo. Quindi il piccino... Loro... Ricordate che sono nettamente emotivo. Non funzionano come il nostro cerebelino. Il loro cerebelino non funziona come il nostro. Quindi le manca ancora sviluppare quella parte razionale. Ok? I sono molto emotivi. Quindi cerca un po' di cambiare magari il... Io a volte quando voglio, fra virgolette, rimproverare, uso più il sguardo. Che per me è... È faticoso non usare, no? Lo guardo un po' così con quegli occhi così menaciosi. E lui capisce. Dopo mi dispiace perché mi rendo conto che... A lui è arrivato il messaggio della paura. E a me questa cosa mi dispiace un po'. Però... Ci sto lavorando. Ok? Come ci dobbiamo lavorare tutti per tutta la vita. Quindi... Proviamo a fare in questo modo un po'... A percepire la sua emozione. Perché io credo che farle capire che non stia urlando. Ma in realtà lui ha sentito un'emozione. La sua è legittima. Ok? Non so se sto rendendo l'idea. Quindi io mi sono segnata qua. Ok? Cosa possiamo fare? Mmm? Sicuramente respirazione. Abbiamo un strumento importantissimo. Che forma parte del nostro corpo. Che è la respirazione. Ma se noi non respiriamo in maniera consapevole. La respirazione è semplicemente, no? Una funzione fisiologica del corpo per vivere. Ma se noi usiamo questo strumento valiosissimo. E lo usiamo per connettere con noi. E prenderci del tempo per veramente capire. Se quello che sto vivendo merita che la mia esplosione emozionale vada tutta contro il mio figlio. Ok? E' la cosa migliore. Quindi respirare. Guarda tuo figlio. Scuccialo. Sentelo. Sente cosa ti sta dicendo. Guarda le manine. Guarda la testina. Guarda i piedini. Sono piccoli. Quindi questo ti deve portare a connetterti con te. E dire. Ma dai. Che l'ho fatto apposta. Cioè. E anche se lo. Tu pensi che l'ha fatto apposta. Tu devi dire. Non può pensare in questa maniera così. Premeditava. Premeditata. E cattiva. No? Quindi. Guarda le manine. Guarda la testina. Guarda il piedino. Il suo corpicino. Poi sto parlando sempre ai bambini piccoli. Quattro. Tre. Due anni. Cinque. Anche sei. Sono sempre piccolini. Quindi. Cerca di. Connetterti con te. Ok? E quando io. Respiro. E mi do il tempo. Di segnalare. La parte. Diciamo. Razionale. Perché che succede. Quando arriva la urla. E' perché la parte irrazionale. Bum. Te porta. A scoppiare. Boom. Esplode. Quindi io. Con il respiro. Se voi. Provate a respirare. In questo momento. In maniera profonda. E consapevole. Sentite che qualcosa. Cambia. Quindi questo. Va a ossigenare. Proprio la parte razionale. E io devo iniziare. A pensare. A una strategia. In quel momento lì. Arrovisciato. Il bicchieri del latte. Vedo il bicchieri del latte. Vedo il latte. Tutto arrovisciato. Così. Sopra il tavolo. Dico. Ok. Amore. La prossima volta. Siamo attenti. Stamattina. Mi è successa una cosa. Che lì. Stava. Sul balcone. Facendo le bolle. Sai. Con questa chiusura. Dovevamo inventarci. De tutto. Lui. C'era sul balcone. Facendo le bolle. Le bolle. Le bolle. Il sapone. E allora. Le è caduto il barattolino. Giù. Arriviamo il quarto piano. E lui. Mamma. Mamma. Mi è caduto il barattolino. Io volevo dirle. Ma perché non stai attento. Per un momento. Mi veniva istintivamente. Quello. Ok. Perché non stai attento. Ma è capitato anche a me. Può capitare anche a me. Quanta persona. Le sono cadute le cose. Del balcone. E le ho detto. Ma. Adesso il papà. Andato giù. A prenderlo. Per non lasciarlo lì per terra. Amore. Ci proviamo a rifarla. Ma no. Doveva succedere. Ma perché io. Faccio tutto sbagliato. Lui. Poveretto. Dopo entrava una crisi. Però. Respirando. Veramente. Riesco a. Ricordare. Che non l'ho fatto apposta. Come magari. Non faccio apposta io. Una determinata cosa. Ma quando. Sbaglio. Parlando con mio compagno. Le dico una cosa. Cavolo. Mi dispiace. Non l'ho fatto apposta. Quindi. Partiamo da questo presupposto. Cioè. Non è che il tuo bambino. Ti vuole far arraviare. Non è che lo fa apposta. Per farti arraviare. L'unica cosa. Che dobbiamo fare. Concentrarci. Su quello. Che stiamo provando noi. Quindi questo. Lo ripeterò sempre. 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 Perché ci deve entrare in testa. Esattamente. Come ai bambini. Le deve entrare in testa. Lavarsi la mano. Tutti i giorni. Tu. Dovrai. Ripeterti tutti i giorni. Respira. Connettati con te stesso. Tutti i giorni. Fino a che diventa automatico. E così farà come ai bambini. Tu dovrai ripetere tutti i giorni. Lavarti la mano. Fino a che diventa automatico. Non so se si rende l'idea. Quindi. Respirare. Ok. Quindi. Tu respirazione. Te porta a connetterti con te stessa. Poi dopo. Tomi. Ok. Prende una decisione strategica. Per correggere. O aiudarlo. O guidarlo. Su quel comportamento. Che c'è. E poi. Devo capire. Che cosa ha bisogno il bambino. Solitamente noi perdiamo il controllo. Quando il bambino si comporta. In un determinato modo. Che ci fa perdere la pazienza. Ma andiamo a chiederci. Che cosa c'è dietro questo comportamento. Sta chiamando la mia attenzione. Sta facendo così. Perché oggi non abbiamo giocato. Sta facendo così. Perché si è sentito ignorato. Cosa sta succedendo dietro questo comportamento. Quindi. Io devo connettermi con me. Per poter connettere con lui. Con lei. Ok. Questa è la cosa molto importante. Allora. Ricorda sempre. Che tu sei parte di un sistema familiare. Ok. Non farti. Sempre queste colpe. Perché ci scappano le urla. Io. Ripeto. Sono una urlona. E me sono. Piano pianino. Redimensionata. E quando sbaglio. Riprendo un'altra volta. Cerco di non stare lì a piandere. No. Per quello che è successo. Sino. Vedere ogni. Ogni situazione. Come un'opportunità. Per ricominciare. Ok. Quindi. Ah. Vediamo. Oh. Qua. Mi avevo segnato tutte le domande. O tutti i commenti. Che erano. Che erano. Che erano. Che erano. Che erano arrivate. Un bambino. Che erano. 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 magari il bambino inizia a internalizzare questa abitudine in maniera molto più giocosa e molto più gioiosa e magari le entrano più, dipende di noi, perché entro più noi urliamo per una determinata cosa dobbiamo capire che le stiamo dando attenzione a un comportamento, ok? perché ricordate che i figli, i bambini o anche gli adulti piuttosto di sentirsi ignorati preferiscono le urla quindi magari se il bambino, c'era un caso di, aspetta di una mamma che ha scritto che quando, urla quando il bambino picchia la soglina più piccola e allora in questo caso, ok, noi perdiamo il controllo perché evidentemente ti entra la paura che il bambino più grande vada a picchiare, a fare male a quella più piccola ma che succede con i fratellini che quello magari facciamo un'altra diretta, no? e fra i fratelli o quando arriva un fratellino o una sollevina che il bambino grande magari sta registrando che per avere l'attenzione dei mamma, ok? io picchio la sorella perché la mamma si gira immediatamente e dice basta, non fare così Elias, perché hai fatto questo, le fai male e quindi io mi sento allora esisto per la mamma però si registra questo, diciamo, percorso neurale imparerà che per avere l'attenzione dei mamma io devo comportarmi, ok? in quel modo lì per avere le urla della mamma perché io preferisco le urla della mamma, ok? non so se rendo l'idea vediamo, ho altri commenti qua, vediamo intanto adesso leggo le domande urlo quando mia figlia mi fa male fisicamente all'atto io adesso hai iniziato a mordermi e quando continuo a urlare a piangere tanto tempo perché vuole prima una cosa e poi l'altra e l'altra ancora Eli, Eli ma quanti anni ha la tua bimba? non so se sei qua in questo caso non so quanti anni ha all'atto può essere iniziato a mordermi può essere sette, otto mesi chi inizia a avere i dentini in bocca e sta imparando a prendere le misure può darsi e poi urla e piange per tanto tempo perché vuole prima una cosa poi l'altra e l'altra ancora dobbiamo vedere lì che cosa sta succedendo fra di voi se magari tu sei un po' sfuggente ok? e lei ha questo diciamo imparato questo meccanismo di magari tenerti vicina però sia piccolina è difficile da capire perché i bambini piccoli vuole una presenza costante della mamma quindi non so se sei qua però si riesce a scrivermi quanti anni fa quanti anni ha meglio urlo quando sono stanca ecco Patrizia Patrizia ha riconosciuto vero? che la condizione che la fa esplodere è la sua stanchezza quindi è stanca al punto che potrei urlare per quanto qualunque motivo anche io mi capita a me capita a tutti secondo me però anche lì se siamo capaci di riconoscere che sono stanca ok? io devo dire ok Rossi sono stanca facciamo questo ultimo sforzo di vestirlo farle lavare i denti ci mettiamo a letto tutto cioè tutti quanti ok? urlo quando la sorella piange e lui inizia a mettersi in pericolo o tocca tutto anche le cose che sono delicate in alto ma si arrampica Loredana se ci siamo sentite al telefono sì questa situazione della sorella adesso è una situazione veramente delicatissima perché già il grande è chiuso in casa con l'arrivo una sorella che ha tre quattro mesi non mi ricordo Loredana scusami e si mette in pericolo perché sa che così tu reagisci ecco io ho trovato il modo che la mamma si alza per venire da me ok? mentre che piange io so che la mamma è lì con la bimba e quando è lì con la bimba io mi sento ignorato questo è un meccanismo di sopravvivenza ma anche per noi adulti no? o è che quando noi eramo ragazzini tipo 18-19 anni non ti piaceva quello e il ragazzo che ti cagava meno o io amo quello lì perché non ti considerava no? quindi io cercavo perlomeno a me mi capitava così nella mia adolescenza io cercavo di più a quella persona che magari mi ignorava non so se prendo l'idea quindi Loredana sì è un meccanismo che si sviluppa dentro di loro e noi dobbiamo sempre come ti ho detto al telefono cercare sempre di darle attenzione quando si stanno comportando in maniera giusta anche se non esiste giusta e sbagliata però sì in maniera tranquilla quindi ti abbraccio forte perché non so che cosa significa non lo so cosa significa essere una neomamma di un secondo bambino in una quarantena come questa veramente devi cercare parlare tantissimo con i mariti fare a turno riuscire a fare una doccia di un'ora con la radio accesa magari solo mettete la crema nel corpo per ricavarti spazio per te perché il tuo cervello ti dice scappa sei stressata quindi questo è una cosa che dobbiamo accettare e riconoscere e il nostro cervello vuole che cosa ci vuole portare viva a fine giornata quindi quando c'è tutto questo stress in casa magari sei da sola non hai aiuto ragazzi è dura è durissima quindi ricordate l'orelana ho fatte a casa se potete stasera fate una lista cosa vedo della mia famiglia di mia mamma cosa vedo della famiglia di mio papà come è stata la mia infanzia ok e questo aiuta moltissimo a riconoscere il modello reattivo o il modus reattivo che abbiamo urlo quando sono stanchi restiamo soli per tante ore consecutive e lui si oppone in questo caso mi rendo conto di perdere la pazienza di Maria del visco anche lei riconosce che è un problema suo non è un problema del bambino sono io che sono stanca sono io che perdo la pazienza non è il bambino ok ora quando mi finisce la pazienza sento che stare a parlare spiegandomi le volte come parlare col muro mi sento male a rifletterci sì quanti anni ha Ivone tuo figlio Ivone Castro non so quanti anni ha è difficile di capire con gli anni ma anche se hanno 3, 5, 6, 7 anni il meccanismo non è che cambia ok dobbiamo proprio essere Elena Serbi urlo perché sono esaurita e stanca anche io diciamo è stanca è stanca sicuramente di questa vita un po' strana vogliamo la nostra normalità vogliamo il nostro ritmo vogliamo le nostre abitudini la nostra libertà è un po' dura vediamo se c'è qualche domanda qua ragazze è merito al pianto da quando si può iniziare a parlare dei capricci e non coccole non esistono i capricci Giovanna in educazione rispettosa non esistono i capricci nel senso che il pianto è un'espressione sta dicendo che c'è qualcosa che non va che non sta bene che le manca che le mancano le coccole non esistono nel mondo del bambino il capriccio e per me il capriccio è quello dell'adulto che se vuole comprare otto un relojio quando ne ha uno è in casa per me il capriccio è la donna che si compra tre estivali quando in casa hai altri estivali per me il capriccio è comparsa una borsa in più quando hai diecimila borsa in casa questi sono i capricci per me quello che la gente chiama capriccio nel bambino sono bisogni non coperti quindi Giovanna non esistono magari ne parleremo più avanti una diretta solo sui capricci ok ma non esistono i capricci i capricci hanno e sono un meccanismo per dirte mamma mettete un attimo e pattini fammi capire che ci sei ok ti sta dicendo qualcosa quindi solitamente questo inizia a 18 mesi si è quello che tu dici poi le coccole secondo me si possono fare anche fino a che crescano no anche se ci regalano dei nipoti le coccole si possono fare per me le coccole dovranno esserci sempre quindi io ho coccole e stracoccole anche se è più grande ha 6 anni e quando ti racconto questa Giovanna oggi noi non guardiamo la televisione mentre mangiamo quindi è come regola però in questa situazione un po' particolare oggi c'eramo lì che pulivamo casa papà stava facendo di qua e voglio mangiare qua e voglio mangiare qua e voglio mangiare qua davanti alla televisione noi abbiamo un altro televisore dove mangiamo non funziona il televisore abbiamo risolto con facendo il picnic davanti alla televisione perché capiamo che lui è nervoso è nervoso lui siamo nervose noi figurati si loro non sono nervosi quindi io quando arriva un compagno del lavoro le dico vado in camera mi voglio chiudere per leggere un libro e staccare la spina per poter mantenere il controllo ok quindi se mi stai parlando di questa cosa secondo me avrà due anni il tuo bimbo Giovanna non so quanti anni ha io credo che urlo perché è inculcata nella mia testa la idea che sia l'unico modo di farmi ascoltare sì sicuramente perché ricordiamo che la parola disciplina viene legata con severità io devo essere io le devo inculcare disciplina a mio figlio ma sembra che la disciplina va esposata per forza con le urle con le minacce con le punizioni ma in realtà non è così in realtà è che non abbiamo strumenti ricordiamo modello diciamo reattivo non abbiamo strumenti non conosciamo la nostra emozione Lisa e lì ciao Marina Taki io ho un bimbo che ha appena tre anni che ora urla lui nonostante che io cerco sempre ok questa l'abbiamo letto prima sei sempre il top grazie Mary incanto a sentirti Teresa Mancina non riesco a vedere la diretta dove posso guardare poi la replica dopo dopo rimane lì Serena Mastrodonato un saluto grande tenere mani tra i video della pagina Facebook ok anch'io come hai detto tu quando non ho più pazienza a chi do aiuto al padre ma la maggior parte delle volte lei non ne vuole sapere e cerca il rapporto con me costringendomi a relazionarmi in modo non corretto nei suoi confronti Maria Vittoria te saluto Maria Vittoria è una di quelle che viene sempre da tutti gli incontri Maria Vittoria però che succede come ho spiegato adesso l'esempio del ragazzino quando siamo ragazzina non so se ti è capitato che ci piaceva sempre quello che non ci dava retta nel momento che tu le fai le dice vado della respirare perché sono arrabbiata e lei viene verso di te ok con questa diciamo modo di mutismo perché magari entri in mutismo che la guardi sei muta perché sei un po' arrabbiata lei ancora sai ha bisogno delle sue confirme no mamma mamma sono qua quindi tu gli devi respirare Maria Vittoria e prendere l'embraccio e dire amore ok la mamma è arrabbiata ma sono qua non ti preoccupare adesso mi passa farle capire che la tua arrabbia non dipende di lei non è una colpa sua che tu ti stai sentendo così sono la nostra emozione che gestiamo noi no sono nostra ce la gestiamo noi quindi Maria Vittoria cerca un attimo di quel momento lì io faccio così quando succede qualcosa che mi fa arrabbiare dico adesso vado della Elias a respirare perché sono un po' arrabbiata se lui mi corre dietro io al tempo non me lo prendo cioè non è che non me lo prendo io il respiro lo faccio non lo rifiuto quindi capisco in questo momento tu dovresti andare incontro di lei quando lei viene da te e abbracciarla accoglierla perché è come spingerla come che tu sei la colpa e vai lì non ti voglio neanche vedere e questa cosa non piace a nessuno neanche a me che ho 42 anni mi dice io vado dietro il mio compagno e gli dico amore perdono 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 perché ho fatto un accavolato e lui mi spinge e mi dice vai via io sto male figuriamoci il nostro bambini con tutto l'amore che sento nei nostri confronti ok è vero grazie per la tua risposta mi fa riflettere molto marina teresa mancina grazie a volte le parli le parli le parli e lui non fa caso e viene l'urlo io sono una che non mi piace urlare però non so sfogare l'impotenza che non va bene ciao di spagna come stai eh ma parte sempre di noi ma dipende che cosa è perché allora mettiamo un esempio di anni se io se il bambino sta giocando mio figlio con il lego no se il mio figlio sta giocando con il lego e io lo chiamo e lo chiamo e non viene io devo accettare e capire che lui è dentro un flusso di concentrazione che non ascolta niente quindi se io mi voglio far sentire se io voglio trasmettere il messaggio al bambino io mi avvicino e cerco di avere contatto visuale gli dico amore adesso dobbiamo non so mangiare ok lo guardo io cerco di fare contatto e le faccio capire ok il messaggio che le voglio far capire quindi a volte pretendiamo che lavando i piatti allora spegni la televisione allora vieni a giocare vieni a mangiare allora e smette di giocare metti a posto tutto e noi stiamo lavando i piatti ok non c'è comunicazione questo lo posso fare con mio compagno ma non con un bambino che sta giocando magari si è con il videogioco magari sta giocando con il lego magari sta facendo una cosa tutta sua ok non mi è capitato anche che magari state al computer il tuo marito ti chiama e ti dice oh Rossi vieni a mangiare sì sì arrivo e fino a che non finisco questa cosa di rispondere a questa meglio non mi alzo e mi dice allora vieni a mangiare o anche noi quante volte chiamiamo il marito che magari sta tagliando l'erba fuori nel giardino e le dico allora vieni a mangiare e lui va con il tagliaerba e non torna fino a che non finisce e gli dice allora la pasta è fredda adesso te la mangi fredda non so se ti rende l'idea però a volte pretendiamo cose del nostro bambino quando non sappiamo rapportarsi con loro chiedere a volte non sappiamo perché ci mancano gli strumenti ok esattamente penso che il mio pensi proprio così penso che il mio pensi proprio così non so la mia dice no mamma cattiva quando le dico non si fa ah perché due anni ciao Rosalba due anni è la fase oppositiva fisiologica quindi quando tu la blocchi ok qualcosa che lei sta facendo è come che la stai togliendo di una sua di una cosa bellissima no io sempre faccio questo esempio non è molto infantile però diciamo che immaginate un momento bello state facendo l'amore con il marito e il marito si alza e dice basta adesso niente più cosa corre mani tu eh cosa che finito cosa figurati un bambino che sta giocando sta facendo qualcosa divertente per loro che magari può essere pericoloso no però le piace farlo e tu le vieni a bloccare questa cosa qua a due anni scusate a due anni è quasi impossibile che ti dica grazie mamma perché mi hai tolto il gioco in questo momento mi sono resso conto che devo andare a riposare è impossibile che succeda questo ok Rosalvita però se hai bisogno mi chiami lo sai esattamente mio figlio fa urlare la piccola proprio per attire la mia attenzione quindi aspetto una prossima diretta sui fratelli va bene Elisabetta vediamoci il prossimo sabato voglio dire a mio figlio a due anni e mezzo quando si arrabbia lancia qualsiasi cosa si trova davanti diventa una furia come devo fare per fargli capire che non si può fare male a lui poi spesso l'amor si sputta non so come fare Arianna Long e i bambini sono nettamente emotivi ok io sempre do l'esempio c'è un video che spiego il morsi non so se vuoi vedere il canale youtube educazione rispettosa però io spiego immaginate che questo ok il cervello fatto così questo è la parte rettiliana questa parte più arcaica questo è il sistema limico che è la parte diciamo emotiva e questa è la corteccia che è la parte pensante mettiamola così ok che succede che il tuo piccolo di due anni e mezzo questa parte pensante non ha quindi io loro reagiscono tutti i bambini anche noi reagiamo con quello che è la parte emotiva e la parte rettiliana che cosa fa la parte rettiliana si defende quando è in pericolo quindi quando io le blocco qualcosa ok o quando si deve difendere se loro si devono difendere quando io le blocco qualcosa e dico di no loro istintivamente prima non capiscono cosa sta succedendo perché questa emozione arriva il cortisolo invade tutto il corpo il cervello o sfusca tutto e loro fanno tutto quello che è una scarga fisica chi morde chi spinge chi graffia chi dà i calci chi semplicemente se tira mia nipote si tira i capelli tanto che se faccia un buco qua quindi è una cosa una scarga fisica proprio del corpo si lo prende in braccio ti dà magari le schiaffe in faccia quindi questo è un processo normalissimo nei bambini che dobbiamo fare noi conoscere le nostre emozioni e usare gli strumenti empatici come li chiamo capisco quello che stai provando amore è vero ti hai proprio arrabbiato ok dare nome verbalizzare quello che sta sentendo ok piano pianino dargli strumenti per gestire e canalizzare quell'emozione io usavo io uso ancora oggi il respiro proviamo a respirare si si permette che lo tocchi magari abbracciarlo di fare la coccola anche se sta un po' muovendosi dappertutto se non permette che tu lo tocchi allora lasciarlo lì e tu resti lì le fai compagnia le dici non ti preoccupare io sono qua adesso passa ok io sono qua se hai bisogno sono qua magari offrire un bicchiere di acqua io facciamo così quando lì era appena appena più grandicello ok però non vederlo come si devi correggere tuo figlio devi solo aiutarlo a canalizzare questa emozione ok per aiutarlo a educarsi quello che sta provando darle nome dire questo si chiama rabbia però ragazzi io sull'emozione dopo vi dico che stiamo facendo tutti gli incontri che facevamo la nostra associazione lo stiamo facendo anche online dopo berre conto ma c'è c'è un incontro che parla solo delle emozioni ok quindi pazienza Arianna non è una cosa che tuo figlio sta facendo sbagliato non è lui che deve correggere non è che capisco che tu perdi la pazienza perché vorresti diciamo bloccare questo comportamento ma in realtà entro più lo blocchi più il nervoso diventa invece entro più lo ascolti ok più le lasci la libertà di drenare questa rabbia che le è arrivata in tutto il suo corpo ok magari lui inizia capire che tu l'accetti anche quando è arrabbiato e che lo ami incondizionalmente anche quando è arrabbiato ok grazie amici è sempre interessante ti ho letto la tua risposta grazie Giovanna a volte sembra davvero difficile non perdere la pazienza sì è molto difficile non è facile questo non è facile perché dobbiamo combattere con un modello ok reattivo che abbiamo reagisce dai basta perché sembrava che il bambino deve essere bloccato in maniera irrespetuosa no perché urlare è un maltrato urlare è irrespetuoso quindi era una convinzione come ho detto all'inizio è dentro il nostro DNA quindi è molto potente questa cosa coccola sempre a ogni età esatto a volte anche il marito diventa bambino e mi ritrova a urlare tutti a tutti qua vai marini sì no è scherzo e il problema è che i bambini coppiano anche come ci rapportiamo con gli altri e quindi loro sviluppano un loro diciamo modello di relazione bassa come noi ci relazioniamo con il marito con la suocera con la vicina con il vicino con la farmaceuta con il fornaio ok e infatti faccio così sempre poi sentirla ancora più disperata mi fa stare male perché Maria Vittoria è il tuo istinto che ti dice ok di prenderla quindi fregatene prenderla in braccio non sono queste le cose diciamo perché lo so come ho detto nell'altro video a volte a volte il desiderio di educare il bambino si unisce proprio con la paura la paura che questo bambino diventi chissà che cosa è il tirano che ti viene a sottomettere a noi che avevamo 30 anni io no sono più vecchia però quindi la paura ti porta a dover bloccare questo comportamento in modo immediato ma in realtà tutto quello che fanno i bambini piccoli sono nettamente emotivi non fanno niente di sbagliato loro sono la risposta delle emozioni che provano no è un bacino Cecilia che bonito che splica grazie Maria Del Visco come fare se bisogna tenere il bambino dei due anni giorno e notte il giorno richiede continuamente la mia presenza per giocare mandare sete di notte dorme attaccato tutto il tempo al seno e addosso non c'è tempo per recuperare le forze e la sera quando si addormenta non posso finalmente la giornata è finita perché stacco mai ti abbraccio forte ti abbraccio forte Maria Del Visco sì ti abbraccio forte perché è dura così è dura sì è molto dura a due anni non riescono a giocare da soli a due anni hanno costantemente la richiesta della mamma a due anni è così te capisco perché l'ho vissuto anch'io per fortuna mia compagna faceva del lavoro che veniva alla sette la sette staccava la spina però capisco Maria Del Visco lì ti devi impegnare ancora di più e magari quando dormi fare un po' di meditazione la meditazione non quella meditazione che dovete stare lì no la meditazione a volte è semplicemente mettersi nel letto respirare concentrarsi sull'aria che viene fuori del naso e così riuscire a consigliare il sonno e in questo caso ti abbraccio molto forte e cerca di lavorarci moltissimo capisco però un tuo figlio ha bisogno solo di te e quando siamo soli è veramente pesante molto 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 forte come farlo scargare se no possiamo uscire come fa Stefania eh sì adesso se no possiamo uscire io sto scargando così quando arriva mio compagno mi chiudo in camera mia mi leggo un libro o rispondo le mail che devo rispondere o semplicemente mi faccio una doccia di un'oretta mi asciugo i capelli e magari il mio compagno è fuori con il bimbo con Elias che che ripeto io solo ho un figlio abbiamo il nostro Tommy che adesso è con la mamma quindi sta a casa e niente come farlo scaricare se no possiamo ah e come farlo scaricare il bimbo e la forza guarda io sto facendo adesso le scala facciamo giochi sulle scala andiamo sui giù sui giù sui giù sui giù quanti anni ha non lo so quanti anni ha però sì dobbiamo inventarci un po' dei giochi cercate su internet giochi per fare in casa come bimbi cercate queste pagine che ci sono che stanno dando dell'idea perché ci stanno dando un sacco di soluzioni veramente un sacco di soluzioni allora ragazzi siamo arrivati alla fine io spero che due e mezzo due e mezzo glielo facciano andare sulla scala io ho un solaio quindi andavamo nel solaio andavamo nel terrasso noi alla dai quante volte vuoi fare la scala e tu lì con lui farlo scaricare in questa materia fisica perché loro hanno bisogno di muoversi mi dispiace tantissimo guarda io l'altra volta ho postato un articolo che diceva che non si vendeva cancelleria non si vendevano i giochi nel supermercato io mi sono un po' incavolata perché ho detto vabbè però questo è un altro argomento perché a volte su tutte queste cose qua lo so che la priorità è l'emergenza sanitaria lo so che la priorità è la nostra vita lo so lo so però comunque nel momento di un'ordenanza il bambino non so